dedica ottava ai protestanti può darsi che si prenda a baglio eppure ci sembra che con voi altri si dovrebbe andare d'accordo almeno almeno con quell'armonia veramente prestabilita che c'è tra le bacchette di nocciolo e le chiappe del ciucco anche l'uomo salvatico come voi altri protesta e protesta contro un'infinità di cose e di persone e protesta tanto e con tanta passione che voi al suo confronto siete scusateci dei protestanti per modo di dire protestanti tiepidi e timidi protestanti all'acqua di camomilla e di gelsomino figuratevi che l'uomo salvatico benché discepolo indegno e imperfetto di cristo si ostina prendendo la lettera del vangelo a protestare contro il mondo e contro i pensieri costumi piaceri i trionfi del mondo l'uomo salvatico protesta in particolar modo contro il mondo moderno contro il mondo quale s'è venuto disfacendo da cinque secoli a questa parte protesta contro la rivoluzione umanistica che ha rimesso sugli altari la cultura pagana rinnegata dal cristianesimo protesta contro la rivoluzione luterana che ha frantumato la cristianità sostituendo la sacra monarchia romana l'anarchia del libero esame e delle sette protesta contro la rivoluzione industriale che ha imbruttito la terra ha ridotto gli uomini a una nuova e più dura servitù e ha sostituito dappertutto la quantità alla qualità la materia allo spirito il denaro alla pace protesta contro la rivoluzione filosofica che partita dal dubbio ha contrapposto la ragione alla fede e ha messo l'uomo nel posto di dio protesta contro la rivoluzione democratica che ha scemato le libertà e cresciuto i pesi dei cittadini che ha fondato la dominazione del numero bestiale e delle maggioranze incompetenti e col pretesto di togliere i regni dalle mani dei re per diritto divino e ha dati a mungere e decimare a bande plutocratiche irresponsabili protesta contro la rivoluzione comunista la quale vantandosi di sopprimere le ineguaglianze economiche instaura più atroci e ingiuste disuguaglianze e vuole rubare al popolo la fede dandogli in cambio fame e forca protesta infine contro tutte le tartaree e novità che deliziano gli imbecilli contemporanei il bar il cinematografo il grammofono l'ascensore il telefono l'automobile la motocicletta il sidecar l'aeroplano protesta contro l'adorazione del meccanico il culto della velocità ingordigia dei comodi materiali contro i balli animaleschi e ruffiani contro i teatri bordelli contro la romanzistica dell'erezione contro la pittura dei dementi precoci contro la filosofia degli atei paralitici protesta contro i puzzi della benzina del coche dell'antracite dei profumi parigini che appestano l'aria contro i fragori frastuoni i rombi delle macchine che in su diciano il silenzio contro i fumi i vapori i polveroni che sporcano il cielo ma protestiamo e protestiamo con maggior forza di tutte le altre proteste contro quei protestanti da qualunque congregazione setta o stalla usciti che vengono in italia a strappare i poveri ignoranti cattolici alla medievale tirannia come dicono del vescovo di roma di qualunque razza siano emorroidi di lutero caccole di calvino unghie di us sputacchi di zuinglio bollatiche di socino forfora di wesley calli di fox catarri di spener geloni di jansenio croste di manete o di ario noi protestiamo contro gli apostoli della disunione e della disubbidienza lasciate gli italiani la povertà e la vedova onorata del loro san francesco lasciate gli italiani l'ignoranza è quella stessa di san pietro quella raccomandata dall'imitazione di cristo e dal pazzo di cristo jacopone lasciate pure gli italiani nelle tenebre del medioevo in quelle tenebre arnolfo ci vedeva abbastanza per innalzare le sue fabbriche giotto per dipingere la cappella degli scrovegni dante per scrivere la commedia e tommaso la somma e tutti guardavano alla luce che usciva dalle grandi basiliche romane lasciateci pure sotto la tirannia del papa è una tirannia istituita da cristo è la tirannia di un padre e noi la preferiamo infinitamente alla tirannia dei pastori dei quacqueri dei concistori e dei libri noi salvatici noi medievali ci teniamo ancora alla bolla unam sanctam porro subesse romano pontifici omni umane creature declaramos dicimos definimos e pronunciamos omni noesse de necessitate salutis come vedete cari fratelli separati separati per volontà e colpa vostra noi protestiamo contro assai più cose che non protestate voi e siamo dunque al vostro cospetto i veri e maggiori protestanti dell'universo mondo se volete convertirvi al nostro protestantismo vi riceveremo a braccia aperte con aperto cuore vi chiediamo poco una cosa sola di sottoscrivere insieme a noi i documenti datati dai palazzi vaticani negli ultimi 60 anni dal sillabo di pio nono di gloriosa memoria all'enciclica ubi arcano dei di pio undicesimo felicemente regnante inclusive e allora soltanto comincerete insieme a noi a protestare sul serio